Già abbiamo cominciato a vedere le prime zanzare e ancora siamo a marzo, quindi mi immagino questa estate nel piano del caldo quello che succederà. A preoccupare adesso in via Fabio Filzi sono anche le larve e gli insetti nel ristagno d'acqua che si è formato all'interno del cantiere ormai da tempo abbandonato. Questo infatti è lo stato dell'aria nella quale sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. All'interno si sono create delle piscine di acqua di notevole dimensioni e sono estremamente pericolose anche con l'approssimarsi della stagione estiva, quindi c'è l'allarme d'engue direttamente dalla regione toscana. Siamo vicini a delle scuole, siamo vicini a delle situazioni non più sostenibili. I residenti hanno così preso carte e penne scritto a sindaco e asole per chiedere l'immediata messa in sicurezza. Bisogna intervenire in maniera massiccia, non con una semplice disinfestazione, ma bisogna evitare che lì rimanga l'acqua e sia veramente il cantiere messo in sicurezza. I lavori erano iniziati nell'ottobre 2021, sarebbero dovuti durare circa un anno. Un'operazione di leasing costruendo nel quale un raggruppamento temporaneo di imprese ha rilevato dalla diocesi che ne era proprietaria allo stabile. E poi doveva realizzare, completare i lavori, una volta completati iniziava sostanzialmente a riscuotere un canone di locazione per un certo numero di anni. Un leasing sostanzialmente e poi il comune dopo 15 anni avrebbe riscattato l'immobile e sarebbe tornato nelle disponibilità totali del comune. Ma nell'aprile dello stesso anno la battuta d'arresto. Nel corso dei lavori sostanzialmente le imprese esecutrici si sono volatilizzate. Quindi la decisione da parte del comune della risoluzione del contratto e dell'escussione delle polizze assicurative. Stiamo lavorando di alcuni mesi per trovare una strada che in qualche modo ci consenta di ripartire, salvaguardando ovviamente la natura del contratto di leasing, perché ovviamente la rottura, la rescissione del contratto di leasing poi dopo sarebbe irrecuperabile. E quindi ci troveremo di fronte a un'immobile proprietà di privati in quelle condizioni. Per cui il comune ha ricevuto ovviamente queste istanze da parte dei cittadini, sono state anche inoltrate all'autorità competente in maniera di igiene e salute. Sono l'ARPAT e l'ASL. Se ci sono le condizioni ovviamente si può emettere delle ordinanze, ma poco più possiamo fare. Nel senso quindi l'obiettivo invece è quello di ripartire. Oltre alla salute pubblica in via Fabio Filsi resta anche l'allarme sicurezza lanciato ormai da anni dai residenti. Quotidianamente lì è ritrovo di spaccio e di persone che si scambiano palesemente le dosi dalla luce del sole. Per cui è necessario che il sindaco, il prefetto e tutte le autorità competenti intervengano velocemente. Noi siamo veramente stanchi come tutti, come abitanti della zona, di vedere una situazione degradata così.